Si costituisce il coordinamento della democrazia costituzionale. A Pescara si costituisce per parlare di referendum e anche di legge elettorale. Cosa volete mettere in chiaro? Vogliamo mettere in chiaro che la riforma della Costituzione, che in realtà è una riscrittura della Costituzione perché riguarda circa 40 articoli, modifica sia la forma di governo che da parlamentare diventa attrazione governativa. E con questo riduce notevolmente il diritto dei cittadini a partecipare alla vita politica del Paese. Da questo momento in poi quale sarà la vostra attività? Confrontarci con i cittadini che saranno chiamati ad approvare oppure a respingere la modifica della Costituzione attraverso un referendum. Confrontarci con i cittadini per illustrare le ragioni del no al referendum. Chi fa parte di questo coordinamento? Siamo di tutte le estrazioni politiche, professionali, ci sono anche molte associazioni che hanno aderito. Diciamo che è un movimento che si riallaccia a tutta una serie di movimenti che ci sono stati anche in passato nella società italiana per la difesa e per lo sviluppo della Costituzione e soprattutto della cultura costituzionale.